Chieti presenta i risultati di un'indagine incentrata sulla qualità della vita e sull'ecosistema portata avanti sulle 110 province italiane. Da un lato i parametri di lega ambiente, dall'altra quelli che puntavano a conoscere sparsi urbani, qualità dell'aria, smaltimento dei rifiuti e produzione dei rifiuti. Chieti è classificata al 55esimo posto. Si trova circa a metà delle province italiane, ma i dati eccezionali provengono intanto dal sistema dei rifiuti. Siamo l'unico capoluogo anche in Abruzzo che, al contrario degli altri capoluoghi che fisiologicamente scendono negli anni la percentuale di differenziata, il Comune di Chieti invece l'ha aumentata dal 56% del 2015 a circa il 61% del 2016. Le eccellenze dello studio sono rappresentate dalla produzione di rifiuti che in un anno si riduce di 21 kg pro capite e quella sull'utilizzo di energie rinnovabili come pannelli fotovoltaici e solare termico. Esistono ancora nuovi standard da raggiungere, secondo il Comune che pianifica già i passi successivi. Ogni abitante di Chieti pro capite annualmente produceva 526 kg a testa. Nel 2016 e nel 2015 ne ha prodotti 504. Questo significa che la vera raccolta differenziata parte proprio dalla produzione in meno dei rifiuti stessi. Se raggiungeremo, come dovremmo fare anche per le nuove normative e direttive europee, il 65% di raccolta differenziata, a quel punto ragioneremo con l'ufficio Ragioneria per abbassare la Tari.